Allora in realtà questa è una cosa che si trascina da un po', in che senso? Che De Laurentiis, penso che lo sappiamo tutti, non ha un carattere facile, chi di noi ce l'ha? Però lui è il presidente del Napoli, quindi puntualmente entra in contrasto con tutti gli allenatori e soprattutto magari ha delle esternazioni poco carine che possono offendere se sei un tipo permaloso. Diciamo che Spalletti è uno che non le manda a dire, quindi in un confronto che c'è stato rispetto prima ai cambi, e quindi Spalletti aveva già risposto in conferenza stampa, mi dite e anche il presidente mi dice di fare prima i cambi o di mettere determinati giocatori. Poi la condizione fisica, e non a caso prima dell'ultima partita non è andato Spalletti in conferenza stampa, ve lo ricordate? È stata una scelta strana, anche in sala stampa lui non ha presentato una conferenza stampa diversa, ma si sono presentati direttamente i preparatori sportivi che hanno spiegato quanto corre il Napoli, hanno mostrato anche i dati rispetto all'ultima partita, proprio perché il presidente, anche con i media, aveva denunciato un calo fisico della squadra e quindi Spalletti aveva voluto rispondere in questo modo. Io credo in sintesi anche rispetto alle ultime affermazioni di De Laurentiis, perché qui lo vediamo a Castelvolturno, dove come anche in altri momenti ho detto, è rilasciato delle dichiarazioni anche al cugino di Manfre, cioè chiunque passasse lì per caso, De Laurentiis parlava in microfono e raccontava robe. Diciamo che per poter andare d'accordo col presidente, certe volte dovresti tapparti occhi e orecchie, Oddio, mi si è spento tutto, aspettate. Dove si tapparti occhi e orecchie e andare avanti, come ad esempio, eccolo là, guardate, guardate che padre e padrone, questo è Di Maro penso invece, come invece ha fatto ad esempio Giuntoli in una fase complicata del loro rapporto, non so se ve lo ricordate, insomma voleva mandarlo via, ma in realtà Cristiano Giuntoli ha saputo aspettare e pazientemente le cose si sono rasserenate. Io credo e spero che la stessa cosa succeda anche con Spalletti, però non so se avete letto anche il Corriere dello Sport oggi, sicuramente Superallan l'ha fatto perché c'è anche il suo pezzo su, prima diceva di Ancelotti che insomma non andava bene, poi addirittura è arrivato in finale di Champions perché ha indovinato i cambi e uno come lui che indovina i cambi, non c'è, papapam, altra frecciata a Spalletti. Diciamo che quando meni tutte queste frecciate poi alla fine uno un po' si può stancare. Sì, anche Meretto Spina. Sì, allora oltre a delle frecciate a Spalletti dove ha detto lui si deve sentire napoletano, deve sentire partenope del sangue, ha fatto riferimento al fatto che dovrebbe prendere casa a Napoli e anche lui stesso vorrebbe trasferire la Fil Mauro a Napoli perché ha degli affari familiari, ma anche perché comunque sa che deve gestire le sue aziende da vicino e Napoli necessita, il Napoli necessita delle sue presenze in molte circostanze. Ioranda, scusami se ti stoppo, voglio sentire anche Giovanni. No, figura, ti sto provando a fare una sintesi come mi avevi chiesto. Ti chiuso praticamente dicendo che lui ha fatto l'ennesima frecciata un po' tutti, anche agli stessi media. Io mi sono sentita un po' chiamata in causa perché anche io parlo sempre di società dell'Aurentis centrica, ma ragazzi è vero che non ci sono altri elementi, non c'è niente, c'è solo dell'Aurentis che prende le decisioni. Poi magari parliamo del dietro le quinte, scusatemi se mi sono dilungata, ma ho fatto una sintesi. Io chiedo a te e a Giovanni, a me piace anche dell'Aurentis fondamentalmente, anche perché a livello di soldi ha preso una società in serie C, l'ha portata in A a competere a volte anche per lo scudetto e non è quasi mai andato in rosso, quindi c'è da stimarlo. Però che cacchio significa che deve essere più napoletano, si deve trasferire a Nacce, ma che rai? Questo non vuol dire niente, così come non vuol dire niente la dichiarazione che fa su Insigne, ossia se non trovarsi bene a Toronto, lo sa che ci trova qui con le braccia aperte. Il senso. Trovatemi il senso di questa cosa. C'è le stesse braccia che tra l'altro non lo hanno trattenuto. Sì, questo è il paraculismo. Nessuno me lo toglie dalla testa, è più per colpa sua che per colpa di lui. Poi vabbè, questo è un altro discorso, noi già l'abbiamo affrontato. Però Giovanni ti vorrei chiedere una cosa, tu se fossi stato in De Laurenti, quanto gli avresti dato? Cioè avresti speso quei soldi lì per Insigne, secondo te oggi li vale? Ma io sarei arrivato ad un... Sei milioni, voleva? Eh, ho capito. No, forse sarebbero stati troppo esagerati, perché lui comunque c'ha 30 anni ed è indirittura d'arrivo, per quanto riguarda la carriera. Eh, bravo, secondo me stavo parlando proprio di carriera. Ok, e su quello ci siamo? Io quello l'ho sempre detto. Secondo me sembra che faccia la parte del cattivo tutte le volte, perché comunque bisogna dare la colpa a qualcuno, ma comunque, cioè poi per l'amor di Dio è un bravo uomo, però secondo me sei milioni non li vale, ma manco cinque o quattro, secondo me. Io però sarei andato incontro a questa situazione, però un'altra cosa che nessuno mi leva dalla testa è che i rapporti, ecco parlando di rapporti, con il capitano si sono incrinati dopo quel famoso ammutinamento era Ancelotti, e lì Insigne era uno di quelli che ne fece parte di questo ammutinamento, chiaramente il capitano, in un periodo abbastanza turbolento, e c'era anche lui di mezzo. Questo penso, e quindi da allora i rapporti non sono stati più, per quanto mi riguarda, e per quello che penso io. Poi non vivo lo spogliatoio, non vivo l'ambiente al 100%, come dovrei magari fare, per saperle queste cose, ma questa è una mia percezione. La dichiarazione, se non si trovasse, guarda ce l'ho davanti, se non si trovasse, qualora non si trovasse bene in Canada, potrà sempre ritornare. Secondo me, guarda, ti dico una roba, fatta in maniera diversa, anche a me mi è capitato che uno magari chiedeva di più per stare qua dentro, e ha detto, fra, vai, poi se non ti trovi bene, torni indietro. Che male c'è a dire una roba del genere, scusate? No, chiedo eh. Tipo Faina faremo così. Assolutamente. Non lo so, perché sono le stesse mani che ti hanno mandato via, per quello che penso io, capito? Cioè, sono le stesse braccia, quelle braccia che, lui dice, lui dice, ti aspetteremo con le braccia aperte, ma secondo me sono le stesse braccia che invece si sono chiuse per non trattenere, per non cercare di trattenerlo. Allora raga, per cose certe che so, rispetto a quello che è successo nel rapporto Insigne dei Laurentiis, quindi Insigne Presidente, che cosa è successo? È successo che Insigne e l'ha vissuta come una cosa personale perché ha contestato il gesto umiliante di invece di offrire un rinnovo diciamo trattabile, cioè sedersi a un tavolo e poter arrivare insieme ad una cifra, è stato offerto un rinnovo a ribasso, ma a ribasso molto basso, cioè nel senso uno e mezzo non può essere il mio ingaggio. sicuramente magari non mi vuoi dare sei però sediamoci a un tavolo e trattiamo, se tu invece dici io ti do questo e basta e attacchi il telefono vuol dire che tu di me non ne hai bisogno e te ne freghi di trattenermi, cioè questo è stato il gesto che ha dato fastidio a Lorenzo Insigne, il gesto che ha dato fastidio alla società sicuramente è l'ammutinamento, diciamo che sono anche due parti che non si sono volute trovare, più per colpa della società, ok, però io comprendo anche una società che deve tenere in regola e bilancio e che dice ok, fammi capire come dobbiamo venirci incontro, io credo che siano state entrambe le parti, poi io già l'ho detta la mia opinione, cioè per quello che mi riguarda io forse perché non ho mai maneggiato tutti quei soldi rimarrei riconoscente tutta la vita la squadra che mi ha preso e mi ha portato in serie A, però ripeto, sono io e i miei stipendi sicuramente non si avvicinano nemmeno a quello che guadagna Insigne in un mese, nemmeno forse in un giorno, quindi il discorso lo posso fare sulla mia vita vissuta, sulla mia pelle, certo magari quando ti ritrovi davanti a tutti quei soldi che possono cambiare le vite della tua famiglia e di tutte le tue generazioni No, no, io dico una cosa, Iole, a parte accendi la luce, però se Insigne era tutto sto fenomeno non è che andava a Toronto che tra l'altro stavano dicendo che ultime in classifica in MLS, no ragazzi, andava, adesso non dico nel Paris, no, ma avrebbe trovato spazio in altre squadre quantomeno non lo so, ma sicuramente, infatti non è stato mai definito diciamo un fenomeno, per me invece però ha rappresentato tanto e credo che non ci sia stato quel gesto di riconoscenza nei confronti però raga chiedete a D'Amico chiedete a D'Amico chi ha diretto l'operazione è D'Amico D'Amico arriva con un'offerta sul tavolo di Insigne e Pisacane di 10 milioni per cui Insigne e Pisacane manco si guardano intorno perché Insigne aveva questo problema il Napoli mi sta sputando in faccia io non voglio rimanere in una società che non mi apprezza da qualsiasi altra parte vada comunque sono napoletano quindi non voglio tradire la mia gente quindi questo è apprezzabilissimo che faccio? Arriva D'Amico 10 milioni Toronto prende e va via cioè questa è la cronostoria capito? Certo io quello che dico è che secondo me Insigne era uno che poteva andare a prendere quanto gli ho offerto dell'Aurentis? Eh uno e mezzo la metà la metà di quello che prende io sono d'accordo io sono d'accordo no ma io mi sto dicendo che allora mettiti io sono il capitano del Napoli mi offri uno e mezzo attacchi il telefono non vuoi trattare io lo capisco che ho 30 anni capisco tutto però mi offendo questa è stata la posizione di Insigne e sarà questa secondo me pure secondo me così è stato no no ma scusate adesso io so che il calcio è una cosa particolare ma in qualsiasi azienda cioè se tu vai dal tuo titolare adesso vi faccio un esempio io ho un amico che ha chiesto un aumento di stipendio chiede l'aumento di stipendio ma il titolare a seconda di come sta messo dice si posso no non può è ridicolo ma bene secondo me stiamo parlando di un milione e mezzo a un giocatore che va a giocare in MLS è ridicolo no loro sono abituati che tanto sai che gli dici se li parli è ma il rosso loro ti rispondono che cazzo me ne frega io faccio il tifoso no 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 io invece non sto facendo così quelli che scrivono quelli che me ne frega voglio andiamo in rosso poi arriva l'estate e devono vendere Lukaku e non rimpiazzarlo no no ma io infatti sul discorso sul discorso pure che fa Iole sono assolutamente d'accordo dei bilanci anzi forse siamo una delle poche che abbiamo sempre le cose in regola proprio perché non andiamo oltre non strafiamo non strafiamo? no no sì non strafiamo oddio forse hai coniato la deconazione non strafacciamo non strafacciamo come si dice scusi non strafaccio vabbè stai chiedendo a Luca Giurato Luca come si dice non esagero dai comunque in ogni caso secondo me strafiamo si può dire però va bene in ogni caso è quello il discorso però è proprio una cosa di riconoscenza cioè il capitano che per tanti anni ha indossato quella fascia è di Napoli e comunque si è sempre accollato tanti tanti problemi di responsabilità è brutto che lo lasci andare così ad uno e mezzo senza venirvi incontro è stato quello il problema poi sul fatto dei bilanci siamo d'accordo sul fatto che va in un campionato di raga scusatemi però il discorso è uno cioè tu sei Andrea e Manfre che devono organizzare dirette uno fa una cosa uno ne fa un'altra quello che sa fare uno non sa fare l'altro ma tu se stai dirigendo un canale ma porca miseria ma ti affiderai pure a qualcun altro cioè De La Vrentis è bravissimo a tenere a posto i bilanci la squadra è perfetta tutto quello che vuoi però ogni volta arriva a 90 e non arriva a 100 e non accetta mezza ceppa di consiglio cioè non te la puoi prendere col fatto che i media eh ma è lui che paga le tasse Iola è lui che ci metta il rischio di impresa perché deve ma sai quanto guadagna e quanto ci guadagna col Napoli sei la sua famiglia quanto ci guadagna vabbè ma che cazzo lo deve fare e sai quanto sono i loro stipendi eh ma vabbè ma ragazzi ma uno che cazzo deve lavorare per l'anima cioè per la gloria di sentirsi dire poi quello che deve fare e allora Andre scusa mi fanno pure bene i tifosi allora dire io allo stadio non ci vengo più non ti faccio più guadagnare perché alla fine tu mi fai arrivare sempre a 90 e non a 100 per metterti tu 90 in tasca cioè io comprendo anche la rabbia del tifoso scusa Andre tu devi ragionare pure in base alla passione ma se va via De Laurentiis chi vi ricordate il Napoli prima? certo arriva Amazon se va via De Laurentiis se abbassa la sua richiesta richiamiamo cerchione se De Laurentiis abbassa la sua richiesta di 500 milioni 500-600 milioni più o meno è stata la richiesta di De Laurentiis arriva l'americano se lo compra e c'è un'altra gestione del Napoli mi pare 7 700? io mi ricordo tra i 500 e i 600 vabbè comunque rendiamoci conto qual è la richiesta di De Laurentiis per il Napoli perché lui con Napoli ci guadagna a me ecco perché Yolanda viene sempre da noi vuole già Amazon-Napoli innanzitutto un saluto e un complimenti ad Amazon qualsiasi qua la compra in generale io lo trovo un ragionamento antipopulista il nostro quello di empatizzare anziché con i tifosi che vogliono bene la squadra tutte quelle robe lì con un imprenditore da solo che in un calcio venduto a dei fondi di investimento perché sta nella merda prova a tenere in piedi una squadra di calcio che ha preso in serie C e l'ha portata in serie A e adesso sta al terzo posto a me Andre ma è perfetto ma De Laurentiis è perfetto il discorso lo sai qual è che io sono d'accordo con te però tu devi accettare pure le critiche non puoi chiamare il tifoso uno che viene picchiato a casa dalla moglie e poi dici il tifoso ce l'ha con me cioè De Laurentiis hanno capito il passaggio che viene picchiato anch'io De Laurentiis ha fatto un nuovo look l'ha anche un po' detto cioè hai capito che intendo no cioè delle sue dichiarazioni aiutami super alla usa il testuale così almeno faccio meno fatica e no ma il problema è che non ho capito leggi se ce l'hai e quale è la parte no non di quest'ultime in passato lui disse ha detto che i tifosi dicono in chat sono vessati dalle mogli sono vessati dalle mogli ecco queste erano le parole non volevo utilizzare un virgolettato sbagliato ecco però tu non puoi andare ai microfoni di chi che sia e dire che un tifoso è vessato dalle mogli cioè capisci la mia ragazza ha risolto trovando un fidanzato quando giocano ai partiti no ma nel senso che ragazzi nello scherzo tra virgolette ci può stare ma tu sei il presidente di una squadra di calcio che va lì a offendere il tifoso e poi dice il tifoso non mi vuole bene e scusami allora la prossima volta dimmi che sono brutto cattivo no ma Lorenzo era pieno di squadre che volevano insignia infatti c'hai ragione tu io non lo so ditemi quante offerte sono arrivate per insignia ragazzi no insignia sarebbe potuto andare all'inter però non c'è voluto ma l'insegna secondo voi gioca nell'inter secondo me no secondo me no neanche nel Milan attualmente no ma era un'offerta da parametro zero quindi è naturale che come parametro zero in Italia più o meno uno come insignia e 3,3 e mezzo li poteva prendere ma 3,3 e mezzo era quanto prendeva il Napoli fondamentalmente il fatto è che secondo me per i bilanci delle altre squadre li può prendere 3,3 e mezzo perché prima in chat leggevo che Messias al Milan ne prende uno e mezzo guarda un po' la differenza ok pure di età è la differenza ma penso che pure a livello balistico di caratteristiche di nome siamo su due pianeti diversi però eppure al Milan ne prende uno e mezzo e insignia poi si sarebbe dovuto ma a me insignia piace sembra che io penso che insignia faccia schifo però è evidente che ragazzi ma è anche con gli età e poi sai c'è una gente come Ibra che magari tiene un po' più botta insignia ragazzi no Andre ma è un giocatore da uno e mezzo secondo me non è da uno e mezzo dai ci potevi trattare dai ci potevi trattare uno e mezzo no dai capitano della squadra tipo per esempio Goulam ragazzi aiutate i minciati visto che siete preparati su età e su stipendi quanto prende prende di più Goulam eppure non gioca lo dico subito ho capito ma probabilmente se gli proponesse un rinnovo oggi glielo farebbe a ribasso anche a Goulam raga si ma il capitano del Napoli tu non puoi prendere il capitano del Napoli e dire ti offro uno e mezzo e attacchi tre milioni e che cazzo io invece tre milioni ci arriveranno io Iole lo capisco molto di più con il capitano che con magari un giocatore che è una stella che vuoi tenerci secondo me un capitano paradossalmente dovrebbe capirlo anche perché sono dieci anni che guadagni con Napoli no perché non è che il segno ha fatto volontariato in questi anni ma ti siedi al tavolo ma ti siedi al tavolo però cioè non fai un e mezzo capito cioè del ciclo se vuoi vai magari c'era la voglia di liberarsene esatto noi diciamo che non tanto discutiamo il fatto che lui vada via perché ci può stare ci sono tante cose per cui mi fanno pensare che ci può stare che lui possa andare via ma è per il come va via un po' quello quello che dispiace da tifoso da tifoso poi mi metto nei panni non è che se Romagnoli guadagna sei milioni cioè insigne questa è una stronzata un attimo questo esempio è perfetto perché il Milan di quella gestione lì scellerata ha fatto arrivare Romagnoli a guadagnare sei milioni oggi con un sacco era partito tipo da quattro ed è arrivata a sei ma infatti Romagnoli al Milan gli ha offerto la metà e forse non accetta o forse sì non lo so ma soprattutto il Milan ha fatto una fine di merda tra l'altro con questa gestione qua partiamo dal presupposto che chiunque fosse deve avere una pacienza e pazza per dirla propria alla napoletana perché comunque gestire De Laurentiis e la squadra non è il lavoro più facile della terra uno che conosca già De Laurentiis deve avere proprio una pacienza allora bisogna disinnescare qualsiasi cosa lui dica poi fai quello che vuoi perché fondamentalmente altrimenti sarebbe impossibile andarci d'accordo proprio per questioni caratteriali forse proprio Mare Camsic e lo stesso Paolo Cannavaro che tra l'altro vi segnalo che è tornato a Napoli lui ha i figli che giocano a calcio di cui uno tra l'altro è tornato a Napoli con la sua famiglia a gennaio quindi proprio Paolo Cannavaro che ha un ruolo che più si addice avete citato Toto Aaronica che fa l'allenatore chi altro aveva detto Mertens c'è tempo quindi diciamo che più Paolo o Amsic sono i due nomi vabbè però per il momento ovo allora io comincio a dirlo poi si vedrà Gio Vaiole un come si dice un pronostico al volo secondo voi chi vince la Coppa Italia? secondo me la Juve ah secondo me l'Inter 1-2-2-1 ragazzi ma la Juve non si regge in piedi ma come fa a vincere arriva meglio infatti mentalmente arriva meglio l'Inter ma proprio per questo vincerà la Juve per me chat vediamo un attimo io dico che secondo me lo vince l'Inter per me lo vince l'Inter anche facilmente ragazzi ah strapazzato c'è uomo uomo no strapazzato adesso non mi fate andare a cercare un uomo che già ma quando fai va bene grazie Giova grazie Iole